Amici del software libero open source, benvenuti o bentornati in questa 127esima puntata del podcast di Marcosbox. E rieccoci qui in questa nuova puntata del podcast di Marcosbox a commentare con voi le principali notizie del mondo del software libero e open source. Questa puntata inizialmente doveva essere pubblicata di domenica ma ho preferito aspettare perché sono arrivate nel frattempo due notizie davvero interessanti di cui vale la pena parlare. Beh, iniziamo subito questa puntata, iniziamo a parlare dei nostri argomenti preferiti. Ma cominciamo questa puntata parlando di distribuzione Linux e parlando, nella fattispecie, della nuova versione di OpenSoupSleep, precisamente OpenSoupSleep 15.4. La nuova minor release di OpenSoupSleep 15, tante sono le novità di questa nuova versione, fra le quali ricordiamo una miglior gestione dei codec multimediali che possono essere facilmente installati, anzi più facilmente installati rispetto al passato, perché l'installazione è stata semplificata. Sono stati compiuti anche progressi per portare i codec video OpenH264 di Cisco per gli utenti tramite un repositori presenti per l'impostazione predefinita del sistema. Altro miglioramento riguardo il supporto di driver OpenSource, oltre al continuo impegno con i driver grafici Linux, OpenSource e AMD e Intel, gli utenti delle moderne GPU Nvidia faranno vantaggio dai driver per il GPU GeForce Series 30 di ultima generazione. Lato desktop environment troviamo KDA Plasma 5.24, GNOME 41, ElightMind 0.6 e MATE 1.26. Per maggiori dettagli su OpenSource Reap 15.4, come sempre, vi rimando all'articolo dedicato su Marcosbox, dove troverete il link per poter scaricare l'ISO di OpenSource Reap 15.4, oltre che le note di rilascio di OpenSource Reap 15.4, così avrete il dettaglio di tutte le novità incluse in questa nuova edizione. Cambiamo adesso l'argomento e parliamo di applicativi OpenSource che si sono aggiornati. Iniziamo parlando di Blender, che ha visto il rilascio di Blender 3.2. Questa nuova versione del famoso software libero in multipiattaforma di modellazione, rigging, animazione, montaggio video, composizione, rendering, texturing di immagini tridimensionali e bidimensionali, fa tantissime cose Blender, lo sapete ormai. Aggiunge questa nuova versione, dicevamo, una funzionalità molto attesa dagli utenti Linux, possessore di schede video AMD, ovvero il supporto per il rendering accelerato del GPU AMD su Linux. Questa funzionalità era già presente su Windows ed è supportata per le schede grafiche discrete di generazione RDNA e RDNA2 che include quindi le serie Radeon RX 5000, Radeon RX 6000 e le GPU della serie Radeon Pro W6000. Attualmente, per poter abilitare l'accelerazione hardware con GPU AMD su Linux, dovrete, oltre ad avere una delle suddette schede video e il Blender 3.2, anche i driver Radeon 22.10. Fra le altre novità di Blender 3.2 troviamo miglioramenti dell'interfaccia utente, algoritmi più fluidi per lo strumento Gris Pencil, un nuovo strumento penna-curva nella modalità di modifica della curva per creare più rapidamente le curve, miglioramenti delle prestazioni in ordine geometrici, aggiunto un importatore objie sperimentale scritto in C++, aggiunto il supporto per il formato di immagine WebP, migliorata la modalità Sculpt, e infine aggiunto il supporto per il control HTC Vive Focus 3. Come sempre, per avere una panoramica completa delle nuove funzionalità introdotte a Blender 3.2, vi rimando alle note di rilascio dell'articolo dedicato su Marcosbox, dove troverete anche un video riassuntivo che vi fa vedere le principali novità. Passiamo adesso a una notizia che arriverà come un fulminaccio e sereno per la maggior parte di voi, ma che vi farà enormemente piacere, perché per una volta non si parla di Fork, ma si parla di due community che decidono di unire i propri sforzi per il bene comune, per realizzare un'applicazione definitiva che funzioni su desktop e su mobile. Gli sviluppatori di Thunderbird hanno annunciato ufficialmente che K9Mail, il famoso cliente di posto elettronico open source per Android, diventerà Thunderbird per Android. Lo sviluppatore di K9Mail è già entrato a far parte dello staff di Thunderbird, portando con sé la sua enorme esperienza nello sviluppo di applicazioni mobile. Il cambio di nome da K9Mail a Thunderbird per Android avverrà nei prossimi mesi, non appena verranno integrate quelle modifiche richieste dal team di Thunderbird, ovvero modifiche visive volte a uniformare l'applicazione desktop con quella mobile, e di funzionalità che sono state richieste, funzionalità che verranno aggiunte a client l'applicazione per Android. Per maggiori informazioni sulla fusione vi invito a leggere il comunicato stampo ufficiale che trovate linkato nell'articolo dedicato sul Marcosbox. Quindi andate a leggere e scaricate questa applicazione. Io in passato l'ho utilizzata, soprattutto nella prima era, quella in cui andavo a moddare i telefoni, andavo a instacrare i ROM modificati e quella. E concludiamo infine questo spezzone di puntata dedicato alle applicazioni con una triste notizia. Utenti Atom, preparatevi a dire addio a vostro amato IDE e nonché editor di test open source. Atom smetterà di essere sviluppato e il repository su GitHub verrà archiviato il prossimo 15 dicembre del 2022. L'annuncio è arrivato direttamente dal blog di GitHub, la società ora di proprietà di Microsoft, dietro allo sviluppo di Atom. Il motivo ufficiale dell'abbandono dello sviluppo del software è legato al calo significativo di interesse da parte degli utenti che si è avuto nel corso degli ultimi anni. Al tempo stesso anche lo sviluppo si era praticamente fermato, non sono state introdotte recentemente nuove funzionalità, ma gli sviluppatori si sono limitati a fornire soltanto aggiornamenti di manutenzione e sicurezza. L'applicativo era rimasto così indietro che era stato ed è stato di fatto surclassato dall'altro rivale, sto facendo le virgolette con le dita ma adesso non mi vedete, dicevo l'altro rivale, il fratellastro, ovvero Microsoft Visual Studio Code. software sviluppato da Microsoft, che ovviamente Microsoft ha puntato tutto sullo sviluppo di questo software e Atom è rimasto lì, è rimasto lì nell'angolino e non è più stato sviluppato e supportato. Per gli orfani di Atom c'è però una piccola e frebile speranza che si intravele a corizzonte perché Max Brandscherft, spero di averlo pronunciato correttamente, che è uno dei principali contributori di Atom, ha intenzione di rilanciare un successore spirituale di Atom chiamato Zed, la cui versione Alpha verrà lanciata a breve. fra l'altro Zed sarà scritto in Rust come va di moda negli ultimi anni. Qualcuno potrebbe parlare di abbraccio e stendi e stingui, la solita strategia di Microsoft ha comprato GitHub, di conseguenza ha comprato anche Atom, ha preso, ha saccheggiato da Atom e ha puntato tutto su Visual Studio Code, questo è quello che molti di voi di sicuro penseranno, però la verità, come mi è stato fatto notare anche da altri sviluppatori, da altri lettori sviluppatori, è che Atom non ha mai brigato troppo per prestazioni, bastava aggiungere qualche plugin e diventava subito esoso, esoso di risorse, quindi, fin da subito non sembra che non ci hanno mai tanto creduto, quelli di GitHub, nello sviluppo di Atom, non ci hanno creduto nel migliorare, nel leggerire, nel renderlo più prestante, almeno quello che mi è stato riferito, perché io utilizzo software di questo tipo soltanto per fare piccoli progetti, qualche sito su WordPress che gestisco, il blog di Marcosbox, che è basato su piattaforma blogger, e che appunto utilizzo giusto per cambiare qualche cosina di tema e quant'altro, quindi non sono un grande utilizzatore di questi software. Fatemi sapere voi che cosa ne pensate, se anche per voi Atom era morto da anni, o ci vedete nel marcio in tutta questa vicenda. Lasciate un commento sulle pagine di Marcosbox. Prima di cambiare argomento, passiamo alla notizia che ha fatto slittare questa puntata del podcast di Marcosbox, ovvero dell'annuncio del rilascio di KDE Plasma 5.25, la nuova edizione principale del desktop environment più amato dai pinguini. KDE Plasma 5.25 riprogetta e migliora il modo in cui navighiamo tra le finestre e gli spazi di lavoro, con miglioramenti nella gestione dei gesti esecuibili sia da touchpad che su dispositivi dotati di touchscreen. L'altro aspetto, troviamo la possibilità di modificare gli accenti del sistema con il colore prevalente del nostro sfondo, in modo da poter personalizzare meglio l'esperienza visiva del nostro desktop. Troviamo inoltre la possibilità di avere i nuovi pannelli flottanti, che donano al nostro desktop environment un aspetto più moderno e accattivante. Miglioramenti poi anche in KID Discover con una pagina applicazione ridisegnata. Infine, continua il lavoro incessante da parte degli sviluppatori di KDE, volto a migliorare il supporto a Wayland. Ovviamente, come sempre, per maggiori informazioni, vi rimando alle note di rilascio che trovate linkate su Marcosbox, e se volete provare fin da subito KDE Plasma 5.25, vi invito a scaricare l'ultima ISO di KDE Neon, che nel ramo stabile ha già incluso KDE Plasma 5.25. Passiamo adesso a una bellissima notizia riguardante System76. Conoscete tutti oramai System76, un produttore di hardware statunitense che commercializza computer, desktop, laptop e tastiere meccaniche totalmente open source e venduti e commercializzati con una distribuzione Linux chiamata PopOS, che è una distribuzione basata su Ubuntu, che System76 realizza per equipaggiare sia i propri computer, ma anche il nuovissimo HP del One, di cui vi ho parlato la settimana scorsa, un portatile indirizzato agli sviluppatori nato tra la collaborazione tra HP e System76. In una intervista rilasciata al sito internet tecnologico olandese Tweaker, la società ha fatto sapere che prevede di aprire un centro di distribuzione in Europa nei prossimi mesi. Nella fase iniziale verrà commercializzata soltanto la tastiera open source launch, di cui vi avevo parlato quasi più di un anno fa che era stata rilasciata, e verrà rilasciata anche una sua variante compatta chiamata Launch Lite. Successivamente si passerà alla commercializzazione e distribuzione di laptop e computer desktop. Ovviamente speriamo che i prezzi si mantengano in linea con quelli statunitensi e che i costi di importazione non facciano lievitare troppo il prezzo finale per noi utenti. Incrociamo le dita. Nel corso degli ultimi anni, sempre più spesso si è iniziato a utilizzare delle frasi di accesso anziché delle password. Perché? Perché le frasi di accesso consentono di avere un livello di protezione più elevato rispetto a una classica password perché sono più difficili da decryptare. Spesso queste frasi di accesso vengono generate in maniera possibilmente casuale e basate su dizionari in diverse lingue. Per aiutarci a generare una passphrase efficace ci sono diversi strumenti ma pochi sono semplici da utilizzare come My Own Passphrase. È un nuovo generatore online di frasi di accesso realizzato dal team di ZipGenius. Se seguite Marcosbox conoscerete di sicuro ZipGenius e le sue applicazioni ZipGenius e CZipX. Su Marcosbox trovate i rispettivi link. Lo sviluppatore principale è Matteo Riso, un mio amico dai tempi di Google+, che è un avvocato nonché sviluppatore di software. Il funzionamento di My Own Passphrase è semplice e immediato. Basterà avviare il home page del sito e ci verrà proposta una passphrase molto robusta composta da 5 parole di lunghezza variabile tra 5 e 8 caratteri e con una iniziale maiuscola. Una passphrase del genere ha un'entropia molto alta e richiede alcuni milioni di anni per essere violata. Quindi è uno dei migliori modi per poter generare delle chiavi di accesso robuste in modo tale da non essere fregati facilmente da attacchi brute force. La generazione della passphrase su My Own Passphrase è basata sui principi del metodo diswear ma non usa i dizionari di questo perché è limitato e spesso non utile allo scopo ma utilizza dizionari che derivano da diverse fonti open source e sono stati ottimizzati per lo scopo di generare una passphrase robusta e utilizzabile. Sono 16 i dizionari che vengono utilizzati da questo servizio compreso l'italiano, l'esperanto e ne arriveranno altri bivi. Se avete la necessità di generare una passphrase vi invito dunque a provare questo servizio che ricordo essere totalmente gratuito quindi non dovete sbossare un centesimo. Che dire, fateci un salto, provatelo. Io utilizzo le passphrase su Nextcloud perché su Nextcloud il metodo di accesso suggerito per sincronizzare i client sui vari computer è quello di utilizzare una passphrase e devo dire che a parte le sbatti iniziali di doversi generare queste frasi è un utilizzo più semplice perché sono anche più facili da ricordare. Se vi entrano nella testa riuscite a ricordare la mo' di poesia che vi devo dire è più semplice delle classiche password alfanumeriche che sfido chiunque a ricordarsi una password alfanumerica in memoria mentre con una passphrase è tutto più semplice e immediato. E ovviamente anche molto più sicuro rispetto a una password generata. Quindi fatemi sapere che cosa pensate di questo servizio e magari lasciate un commento sulle pagine di Marcosbox. Concludiamo infine questa 127esima puntata del podcast di Marcosbox con la musica. Sì, avete capito bene. Come da tradizione ormai da diversi anni i ragazzi di SUS Linux in occasione del SUScom la conferenza tecnica annuale globale per clienti, partner e appassionanti della comunità SUS è solita realizzare una serie di video parodie musicali a tema software libero open source. In occasione della SUScom 2022 che si è tenuta qualche giorno fa sono state realizzate diverse parodie musicali ispirate a brani davvero famosi. Ci sono parodie di Everybody You Take dei Police quest'anno parodie di canzoni dei Linkin Park parodie di canzoni di Big Joel sono tutte quante stupende io le trovo semplicemente stupende anche se la più bella è stata pubblicata qualche anno fa quella di Ops faccio schifo a cantare andatevi a recuperare i vecchi articoli al riguardo e divertitevi sperando che continui questa trovata da parte del team di SUS Linux perché è davvero davvero bella davvero divertente e rende unica la comunità di SUS Linux. ecco questa ultima notizia si conclude quindi questa 127esima puntata del podcast di Marcosbox come sempre vi ricordo che potete seguire il podcast di Marcosbox sulle principali piattaforme di podcasting quindi mi trovate su Apple Podcast Google Podcast mi trovate su Spotify mi trovate su Amazon Music mi trovate ovunque basta cercarmi vi rinvito come sempre a seguire Marcosbox sui principali social mi trovate su Facebook Twitter LinkedIn mi trovate soprattutto su Telegram dove sono gli attivi tre canali il primo dedicato alle notizie nel mondo di Marcosbox che potete utilizzare a modo di feed read per sapere quando viene pubblicato un nuovo articolo trovate poi il canale dedicato alla community di Marcosbox nella quale si può parlare sia di Linux ma anche di di qualsiasi cosa vi passa per la mente sempre nel rispetto della legalità e nella decenza e infine trovate un canale dedicato alle offerte di Amazon che potete utilizzare per supportare Marcosbox acquistando infatti da uno dei link presenti sulla sulla pagina dedicata sapete bene come funziona l'affigliazione di Amazon il prodotto voi lo pagherete lo stesso però Amazon mi riconoscerà una certa percentuale che verrà utilizzata da me per migliorare l'attrezzatura e superire alle mie solite sfighe informatiche che mi causano la distruzione di hardware nuovo e sono sfortunato con l'informatica lo sapete e beh lunga vita e prosperità a tutti quanti ci riascoltiamo la prossima settimana con la prossima puntata del podcast di Marcosbox ciao ciao